Questa non è un'opera disegnativa, questa è un'opera d'arte. Mostra la capacità degli etruschi di dominare i miti dei greci. Questo è il luogo di ritrovamento della biga etrusca, la biga esattamente è stata ritrovata qua. Beh, non c'erano più dubbi, è stata trafugata. E quindi da lì è nata l'operazione biga. Quando ho cominciato a esaminare tutto questo faldone, veramente sono sobalzato sulla sedia, perché ho cominciato a trovare delle lettere che facevano espresso riferimento alla biga di Monteleone. Grazie a tutti.